Secondo Casadei, 25 anni, il venticinquesimo della scomparsa. Noi vorremmo ricordarlo così, con Giorgio Vassurra in una firudeala in omaggio a Secondo Casadei. Questo o quello? Al grande maestro Secondo Casadei. Casadei, le stelle autore che la servei nostri folklore. Una difesa subalabile che è motivi intramutabili. Il valore c'è con un brio della Romagna l'estetio. A Mercur, dopo l'invasione, quella veniva qui da noi. In campagna, in tal ballare, gli erano pronti per calciare. L'era bella preparata a presentarsi un'ovità. Oli suoneva con un scatto che faceva di un temato. Con una ritmica lasciata bella e ballare un tocco a terra. Tutti le zette qui in ballava, a bocca aperta gli applaudeva. Ma intenzia con i cittadini, io volevo i pensi americani. Al suone di, io li fischiava. Ma è maestro un serendeva. L'estetio è volto la ruota e ballare le tue le tue le tue le tue. E qui fischiava, ti prendri, di subche e bepinti. De l'estetio è spaz di spaz, chi va a scuola di ballesce. Ormai è di una classe che non impera niente più e paz. L'importante cui vedi fiore, in palèbre romagnolo. Se un è eter, ha l'unore di rinforzare il nostro folklore. Che in culo arriva un po' di spettacolo in tutto il mondo. E non cantare romagnolo in fiore, grazie secondo ai nostri folklore. Grazie. Grazie.